ciao a tutti prima di iniziare volevo ringraziare ramona per aver sostenuto il canale vi ricordo che se volete farlo anche voi trovate il link qua sotto in descrizione e adesso iniziamo a tutti bentornati sul canale per chi non mi conoscesse benvenuti io sono daniela abito sul lago maggiore ogni settimana pubblico un video di escursioni sul lago maggiore di intorni o anche un po più là oggi siamo vicino al lago di como siamo nel parco spinaverde di como e volevo ringraziare ivana lorenzo e michele e anche febi per avermi parlato di questo posto che non conoscevo ho deciso di iniziare percorrendo sentiero 7 con percorso ad anello volevo ringraziare anche la mia amica paola che mi ha suggerito dove posteggiare buona visione sul sito c'è scritto che è possibile lasciare l'auto nel posteggio vicino al palazzo comunale io però ho proseguito su via montesasso bisogna stare attenti perché c'è zona traffico limitato nel periodo scolastico in alcune fasce orarie non è questo il caso quindi io sono salita fino ad arrivare a questa curva dove ci sono i primi cartelli con scritto parco spinaverde subito dopo 30 metri oltre la curva sulla destra c'è un piccolo posteggio gratuito dove ho lasciato l'auto in questo modo ho evitato di percorrere un lungo tratto di strada asfaltata e assolata e abbastanza ripida quindi se c'è la possibilità conviene salire fino a qua adesso sono qui e farò questo giro ad anello alle mie spalle c'è il piccolo posteggio dove ho lasciato l'auto e noi iniziamo prendendo questa strada asfaltata si prosegue seguendo la strada ci sono anche le indicazioni per l'agriturismo l'agrifoglio e il sentiero 7 la prima meta è la galleria di deposito che danno a dieci minuti domani che siamo all'ombra perché non sembra ma sale bene il sentiero che sta percorrendo si chiama le trince della grande guerra e il primo sito che si raggiunge è la galleria di deposito il parco regionale spina verde interessato nell'area del sasso di cavallasca da parecchi resti di trincee camminamenti e cunicoli scavati nella roccia postazione di avvistamento nidi di mitragliatrici e piazzole per murtai queste strutture facevano parte del più vasto complesso di fortificazioni della linea cadorna edificato durante la prima guerra mondiale a difesa del confine nord per il timore di un'invasione tedesca attraverso la neutrale svizzera questo sistema difensivo che si estendeva dalla val d'ossola la bergamasca fu abbandonato dopo la smobilitazione a seguito della fine della guerra nel 1918 si prosegue fino ad arrivare a questo bivio a sinistra si va verso agriturismo l'agrifoglio noi continuiamo sulla destra con il nostro sentiero 7 l'immensa opera fortificata seppur non interessata direttamente dai combattimenti è seconda per dimensioni solo alla più celebre linea maginu sasso di cavallasca è percorso da un circuito ad anello che ricalca parzialmente la strada militare che fu costruita a supporto della linea difensiva lungo il sentiero ci sono diversi pannelli esplicativi degli alberi che si trovano nella zona qua siamo arrivati al punto panoramico del monte sasso dietro di me c'è la città di cavallasca lontano si intravede anche milano oggi c'è un po di boschia questa è una pigna di sassi che rappresenta la pigna del cedro del libano che è stata donata dalla ditta binda di valbrona pesa circa due quintali è stata posata qui con un elicottero si sale ancora un passiero al punto più alto del parco siamo a 610 metri sul livello del mare c'è una panchina e un tavolino con una croce fatta con i sassi a questo punto non ci sono più indicazioni io proseguo sul sentierino che che va dritto io sono arrivata da qui e sulla destra c'è questa strada acciottolata adesso proseguo per di qua qua ci sono altre fortificazioni sbirciando all'interno si vede la luce in fondo al tunnel adesso entro qua è bello fresco ragazzi mi sa che non ci passo però di qua ecco questo era l'altro accesso che ho visto da sotto si prosegue sempre dritti fino ad arrivare a un altro punto panoramico qui siamo a pin umbrella e adesso vi faccio vedere che vista da qua si vede como monte olimpino la vista spazio alla svizzera con monte generoso poi si torna al monte visbino monte san primo il lago di como e tavolosa dopo aver ammirato per bene il panorama adesso proseguiamo sulla sinistra sempre seguendo i cartelli del sentiero 7 pausa merenda con una bella mela succosa e acqua si scende per un bel tratto io pensavo di aver quasi sbagliato il sentiero invece è giusto perché poi si ritrovano altri cartelli che indicano sempre trincee della prima guerra mondiale e cavallasca sulla sinistra meno male che sto facendo il giro in senso antiorario così tutte le scale si fanno scendere costruito nel 1917 ha una duplice funzione di abbeveratoio e lavatoio qua ci troviamo al fortino del monte sasso mamma mia quanto lavoro che c'è dietro tutte queste costruzioni davvero strette questa è la scaletta alla marinara questa è la scaletta alla marinara prosegue da tutte le parti ci si perde bello, cioè bello girare così insomma quello che era stato costruito forse c'era meno entusiasmo tratti con palizzate graticci dopo aver girato un po' tra i camminamenti del fortino sono tornata qua lo spiazzo davanti qua c'è un bivio che indica cavallasca via maiocca e via montesasso io devo andare in via montesasso quindi a sinistra ciao dopo circa tre chilometri e mezzo sono arrivata qua questa sbarra qui dove c'è la galleria di deposito il primo sito che abbiamo visto oggi e da qui adesso prendo la strada asfaltata che scende è la strada che ho fatto all'inizio quindi qua l'anello si chiude essendo un giro d'anello si può decidere se farlo in senso orario o anti orario io mi sono trovata comoda farlo in senso anti orario così ho lasciato tutta la parte con la scalinata in discesa però è indifferente dopo circa quattro chilometri ha concluso il mio giro spero vi sia utile e vi sia piaciuto e ci vediamo presto per una nuova esplorazione ciao 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 Ciao